Forse coloro che controllano e moderano Instagram sono in pochi. Abbiamo 15.000 persone che si occupano proprio di questo. Insomma, appurato che c'era una violazione perché di questo si tratta, abbiamo applicato la policy. Caro rappresentante del gruppo Meta Instagram Italia, perché tu e il tuo team avete approvato con tanto di spuntina blu account di minori che svolgono attività di influencer e che addirittura monetizzano? Mi riferisco a quei piccoli bambini con migliaia di follower approvati dal vostro imparziale circolo di pensatori liberi. Stranemente, i più celebri non hanno la dicitura account gestito da un genitore. Vorrei ricordare che Instagram è nato come piattaforma di condivisione fotografica. Oggi Instagram è diventata una macchina di soldi che genera milioni di euro e ci bombarda di pubblicità come se fossimo di fronte alla televisione. Chi gestisce una piattaforma così redditizia deve essere sempre all'avanguardia. Deve avere un team altamente vigilante e scrupoloso nelle sue valutazioni, soprattutto sugli account da loro autentificati.